Buongiorno a tutti, voi qua vedete un orrendo neologismo, New Fluencers, che abbiamo coniato perché non sapevamo come chiamarli questi personaggi, questi strani esseri, questa nuova specie in qualche modo di personaggi. Gli influencer sono personaggi con cui tutti noi lavoriamo, chi di voi lavora con gli influencer o li ha chiamati o li ha usati? Vincenzo Piscopo ovviamente ci dice di sì, molti di voi li usano, li useranno, molti di voi li vogliono usare. L'agenzia Clear ci dice che è cresciuta del 198% l'utilizzo degli influencer nell'ultimo anno, 198% è tanto. Noi come Fuse ci troviamo nella situazione in cui tutti i giorni riceviamo decine di mail, e non sto scherzando, decine di mail di clienti che ci chiedono testuale, ci dai qualche nome di influencer? Quanti numeri hanno? Cosa un po' strane. Io sono arrivata dalla casa di produzione, arrivo in Fuse, e mi trovo queste richieste così, insomma un po' banali forse se vuoi. E mi sono cominciata a chiedere come mai tutti vogliono usare l'influencer, pur non sapendo cosa sono, pur non sapendo come si utilizzano. Allora abbiamo cominciato a studiare. E siamo arrivati a questa conclusione, che c'è una nuova specie di influencer, che noi abbiamo chiamato un influencer per comodità. che se riesco a girare. Ce la posso fare? Non funziona. Adesso arriverò, girerò la prossima slide, scusate. Me l'hai rotto, Anna? L'hai rotto tu? Ok, ah ok, perfetto. Adesso funziona. Allora, gli influencer sono l'evoluzione della specie, in pratica. Quindi se facciamo un paragone con l'evoluzione della specie umana, gli influencer sono l'evoluzione rispetto agli influencer. Dove si trovano? Boh, non so, bisogna un po' cercarli. Però noi possiamo contribuire a questa evoluzione. Noi marketer, noi brand, noi agenzie di comunicazione, possiamo contribuire in modo forte all'evoluzione di questa specie. Perché ci serve? Ci serve molto. Perché fra un po' non sapremo più chi usare. Dopo aver usato per dieci volte i jackal che sono qua seduti con noi, cominciamo anche a chiederci magari chi possiamo usare. Quindi abbiamo cercato di capire quali sono le caratteristiche di questi new flu, di questi new fluencers. E le caratteristiche di influencer, come quelle di tutte le nuove specie, differiscono di poco rispetto alla specie precedente. Per cui i new fluencers sono personaggi che hanno, così, in linea di massima, due caratteristiche, due piccoli geni mutati rispetto agli influencer. Quali sono queste due caratteristiche? La prima non è la capacità di riprodursi, che gli influencer ci hanno dimostrato di avere, ma è la capacità di preprodursi. La preproduzione. Sembra una banalità perché dici, certo, tutti producono dei video, li preproducono, ci pensano, lavorano sul brief. No, non è così. Non è assolutamente così. La preproduzione è importante. Voi vi ricordate i primi influencer che noi tutti conosciamo? Vi faccio vedere magari dei volti di prima e dopo. Vi ricordate le prime Clio Makeup, le prime Chiare Ferragni, i primi Fedez, i primi Rovazzi, forse anche i primi Jackal, i primi tutti, no? Diciamo che avevamo dei contenuti assolutamente orribili, dei contenuti molto brutti da vedersi, però era sufficiente l'esserci, era sufficiente l'essere veri, l'essere puri, il dire quello che si sapeva fare, la fotogenicità era molto importante, era importante la simpatia innata che uno poteva avere, era importante anche magari il saper fare qualcosa, il saper craftare qualcosa, il saper truccare, il sapersi in qualche modo pettinare, no? Ma bastava quello, ok? Per cui avevamo delle cose orribili, come quelle che vedete qua, con un Favij assolutamente inguardabile, una Clio Makeup, eccetera, quindi a livello di crafting, terribili, ma anche a livello di contenuto, bastava raccontare, bastava essere, questo ha generato grande empatia con il pubblico all'inizio, con i follower, perché tu non avevi filtro, chiunque di noi poteva parlare, poteva dire, la verità è che mentre si evolveva la specie degli influencer, anche i follower si evolvevano e sempre più contenuti fruivano, sempre più cose vedevano, sempre più web, sempre più contenuti avevano accesso, per cui pian piano anche loro si sono raffinati e quindi l'essere veri, puri e simpatici non bastava più. Quindi la preproduzione, come dicevamo prima, è molto importante, perché il primo segno di evoluzione è quello di diventare dei professionisti, dei professionisti della creazione di contenuto. Noi tutti che facciamo contenuti, io vengo dalla casa di produzione, ma ormai anche i brand, come ci hanno dimostrato oggi i brand che erano qui presenti, sono dei produttori di contenuto, dei creatori di contenuto e tutti noi ci siamo dovuti adattare, cioè tutti noi prendiamo un brief, lo sviluppiamo, facciamo una fase creativa, sviluppiamo il concept, elaboriamo la modalità di brand integration, molto importante, che molti influencer sottovalutano, lavoriamo sul crafting, in modo che questi prodotti vengano craftati, costruiti nel modo corretto, sono tutte cose che in parte abbiamo derivato dalla televisione, dal cinema, le agenzie creative sanno bene quanto è importante il crafting, per cui è un tema, anche gli influencer si devono adattare, quindi il gene mutato è quello della preproduzione, i new influencer sono gente che sa preprodurre e che si sa anche organizzare a livello commerciale. Questa è la meravigliosa Chiara Ferrani, che la vedete prima e dopo, anche lei all'inizio non è che fosse, voglio dire, una produttrice di contenuti straordinaria, poi, insomma, capite la differenza, sia a livello di contenuto, di costruzione, ma lei non è una new influencer, dopo vi spiego perché. Comunque diciamo che la differenza la vedete. Questi tre che ho citato insieme ad alcuni altri sono state le lussi di questa nuova specie, sono stati il primo elemento di questa nuova specie, li possiamo individuare, sono quelli che immediatamente hanno cominciato ad avere milioni di follower, si sono cresciuti, sono diventati dei benchmark praticamente inarrivabili, quindi questi per noi sono a livello antropologico, insomma, personaggi molto molto importanti, bisogna tenerne conto. La preproduzione è importante perché crea quello che ci diceva prima Anna, che ci hanno detto tutti i nostri brand questa mattina, la preproduzione e la cura del contenuto crea rilevanza e unicità. Abbiamo bisogno di uniqueness, abbiamo bisogno di unicità, ce l'hanno detto in tutti i modi stamattina, e di rilevanza. La parola rilevanza stamani l'ho sentita dire tantissime volte, l'ho sentita dire nella nostra ricerca, per cui è importante essere contenuti fatti bene, ok? Quindi il primo appello che facciamo è a chi qua in questa sala e anche fuori, spero, cura i nostri influencer, i nostri personaggi e anche i nostri talent. Guardo qui, ciao people, però insomma voglio dire possiamo parlare con chiunque altro, ci raccomandiamo che i talent manager comincino a fare scouting sui personaggi che ci sono probabilmente già nel sottobosco del web, fateli crescere, fateli crescere anche a livello di contenuto, fateli crescere a livello di capacità manageriale perché noi ne abbiamo bisogno, in questo momento abbiamo veramente difficoltà nel trovare nuovi personaggi e nuove storie, per cui il primo appello che facciamo è ai talent manager, dai, dai, ce la possiamo fare, Harry Apton. Il secondo criterio che distingue l'influencer dall'influencer bisogna raccontarlo in questo modo, è quello che è praticamente il crepuscolo della reach, il crepuscolo delle views, il crepuscolo di questo unico criterio che erano i numeri, perché essere visti come ormai tutti voi saprete, non basta più. Il fatto di avere tanti numeri non è più sufficiente. A noi, come vi dicevo prima, la richiesta che ci viene fatta tutti i giorni è bello, mi piace questo influencer, questo personaggio, che numeri ha? Ha dei bei numeri, ma non è quello che serve, non è più solo quello che serve. E questa cosa è fondamentale saperla. Questa è una scorecard che noi utilizziamo in Fuse per spiegare e per far scegliere ai nostri brand quelli che sono i talent migliori per loro e come vedete ci sono tanti criteri là sopra, ma è faticoso farla passare questa cosa ai brand in realtà, perché quello che voi vedete sono brand fit, breakthrough, social, trend set, awareness, endorse and price. Social è la colonna relativa ai numeri, è uno dei tanti criteri che si devono poter usare, è solo uno, perché la reach, importante, le views sono importanti, li usiamo come media, li usiamo come natural media, per cui sono fondamentali i numeri, ma non basta. Ah, scusate, vi faccio notare una cosa, qua in fondo c'è una colonnina lasciata lì che è a sé stante in fondo che non mettiamo neanche nel conteggio che si chiama Thrilling Experience, cioè la storia, lo storytelling del personaggio. Poi vi spiego perché la lasciamo lì in fondo ma perché è la più importante in realtà. Quindi i numeri non bastano più, la reach non è più sufficiente e le views, i like, eccetera, anche basta, teniamone di conto ma facciamo in modo che non sia l'unico criterio. Questi sono gli altri. Il primo è il brand fit, prima ci diceva Anna quanto è importante ricevere un brief puntuale ma soprattutto saperlo studiare. Noi che siamo agenti di comunicazione dobbiamo come dire, approfondire il brief che ci viene dato, non possiamo pretendere che i brand ce lo diano fatto, finito, approfondito. Noi dobbiamo andare a lavorarci su questo brief. Spesso c'è bisogno di interviste aggiuntive con i marketing manager, facciamole perché noi dobbiamo capire bene a cosa servono questi influencer altrimenti non gli facciamo un buon servizio per cui annoiamo pure i nostri brand manager, i marketing manager, chiediamogli più cose, facciamogli più domande, voi abbiate pazienza brand manager, marketing manager ma noi ve le dobbiamo fare perché dobbiamo capire bene quale obiettivo avete per scegliere il giusto talent, il giusto influencer per voi. Quindi il brand fit è il primo criterio come diceva Anna, poi ne abbiamo messi altri, la breakthrough, la breakthrough è detta malissimo, quella capacità che hanno alcuni personaggi si diceva un tempo nel mestiere della televisione di bucare il video, cioè quei personaggi che anche se appaiono solo per un secondo o solo in un piccolo posto, solo su un contenuto social, spaccano, si fanno notare e questo è importante perché? Soprattutto per quei brand che non hanno tanto media da spendere, quindi pubblicano pochi contenuti magari, però col giusto talent, con la giusta breakthroughness, penso che si dica, riuscirebbero ad ottenere il loro obiettivo. L'awareness, l'awareness è ovvio che è importante, però spesso si cercano personaggi molto cool, molto giusti, molto fighi, in realtà a volte avere personaggi con una grossa awareness, personaggi anche televisivi, i mitici personaggi di Maria De Filippi, personaggi di reti che magari non sono percepite come particolarmente cool, ma che hanno una visibilità enorme, per un obiettivo specifico possono essere più giusti, per cui non trascuriamo, in base al nostro obiettivo, anche questo tipo di personaggi. La capacità di essere endorser, abbiamo dei personaggi che sono fantastici, ma che non aiutano per niente il brand, che lavorano proprio da talent, come si faceva una volta, da testimonial, come si faceva una volta, non voglio toccare il brand, non mi voglio mica sporcare le mani, quindi questi tipi di personaggi non sono dei buoni endorser per noi, noi abbiamo bisogno di personaggi che siano professionisti anche in quello, nel volerci aiutare, nel voler costruire con noi delle storie, devono essere in alcuni casi in base all'obiettivo del brand anche dei trendsetter e non ultimo devono avere un costo giusto. Il giusto costo non necessariamente è un costo basso, perché a volte, come ci dimostrava stamattina Tim, a volte con un talent forte che magari avranno pagato quello che hanno pagato, voglio dire, in alcuni casi si va a pagare probabilmente molto di più, però si riesce ad ottenere un obiettivo potente e si riesce anche a ottimizzare sul costo del media tradizionale, per cui non abbiamo paura di spendere soldi in alcuni influencer, in alcuni talent che magari costano di più, perché a volte in base ai nostri obiettivi potremmo riuscire a ottimizzare altrove, quindi questi sono tutta una serie di come ti posso dire di criteri che noi utilizziamo per valutarli e che tutti noi dovremmo fare, ma il vero pollice opponibile, cioè il segno distintivo dei veri influencer, l'equivalente appunto del pollice opponibile, è l'avere una storia complessa o il sapere raccontare le storie in modo complesso. Uso la parola complesso che è una parola un po' negativa se volete, perché sì, perché per creare quelle che chiamiamo compelling stories serve anche complessità. Le compelling stories sono storie interessanti, ok? I nostri influencer devono cominciare ad essere anche personaggi un po' più complessi, avere storie particolari da raccontare, avere storie anche personali particolari da raccontare, non esclusivamente positive, non necessariamente sempre tutte in luce, devono avere, devono sapere raccontare non solo le loro forze, ma anche le loro debolezze in alcuni casi, quindi luci e ombre. Questo perché? Perché diventa importante per noi avere dei personaggi da poter utilizzare in tanti modi diversi, non possiamo usarli solo per raccontare la storia della famiglia del mulino bianco o per raccontare quanto è bello e bravo il nostro brand, dobbiamo usarli anche per raccontare come vi diceva prima Anna, delle storie interessanti, rilevanti. E per far questo non dobbiamo avere quella che Robert McKee chiama la paura del buio. I nostri brand, tutti i nostri brand, ma anche noi stessi, ci censuriamo perché abbiamo paura dell'oscurità che ci può essere in alcune storie. Il fatto di non raccontare una storia esclusivamente positiva ci fa molta paura. Poi ci sono dei casi invece come Ford che ha fatto in Europa un paio di anni fa un contenuto come The Family che parla di un divorzio disastroso in una famiglia, un film bellissimo in tre episodi e ha funzionato da matti. Si cominciano a raccontare queste storie qua anche un po' più scure, anche un po' più forti dal punto di vista del contenuto. È importante non avere paura del buio e per non avere paura del buio intendiamo questo, intendiamo abbracciarlo questa oscurità in qualche modo. Tutti voi vedete su Netflix serie come Breaking Bad che è la mia preferita ognuno di voi avrà la vostra ma oltre a Breaking Bad ce ne sono molte altre voglio dire Mad Men vabbè Trondo di Spade quasi tutti quasi tutte le storie che ci interessano veramente quando Anna prima diceva non andiamo a teatro solo per vedere la scenografia andiamo a teatro per sentirci raccontare una storia che ci interessa. Le storie che ci interessano sono queste i personaggi che vengono raccontati in queste storie sono personaggi conflittuali che hanno molte luce e ombre noi empatizziamo tantissimo con questo tipo di personaggi quindi anche quando noi andiamo a scegliere un influencer un talent o una storia pensiamoci a questo cerchiamo di non avere paura del buio cerchiamo di scegliere personaggi magari con vabbè Narcos fantastico cerchiamo di scegliere questo tipo di personaggi anche per la nostra comunicazione sui social anche con i nostri newfluencer in Italia Netflix è facile parlare in Italia chi sono queste storie un po' più complicate un po' più multisfaccettate che possiamo andare a raccontare vi faccio tre esempi macro Fedez con la Ferragni Gali e Saviano perché secondo me è più importante è più giusto come newfluencer è più multisfaccettato Fedez della Ferragni e quindi è lui secondo me che andrà avanti che sopravviverà in qualche modo perché Fedez è lì inginocchiato la Ferragni non la vedrete mai inginocchiata secondo me Fedez ha la capacità di raccontare di sé luce e ombre di raccontare il pianto di raccontare la delusione di raccontare l'amore no? si inginocchia lui è lui che chiede quindi è un personaggio molto più sfaccettato io per i miei brand noi per i nostri brand li possiamo usare lo possiamo usare molto più facilmente Gali uguale è uno che in un momento in cui l'Italia va nella direzione dell'odio dell'incitamento all'odio contro il diverso eccetera è uno che con estrema semplicità e con dei numeri impressionanti sui social riesce a dire io sono un diverso io sono una persona che sta a metà fra l'Europa fra l'Africa e lo faccio con estrema semplicità Saviano che ve lo dico a fare c'è un personaggio strepitoso da questo punto di vista milioni di haters milioni di followers milioni di persone che lo amano milioni di persone che lo odiano è uno dei personaggi con una personalità estremamente multisfaccettata riesce ad essere allo stesso tempo un martire e un personaggio pop televisivo quindi suscita grandi contrasti però questo tipo di personaggi sono quelli con i quali noi potremo raccontare bene le nostre storie cosa c'è what's next cosa c'è in futuro loro sono già fra di noi la nuova specie la futura specie oltre in influencer è già qui è già fra di noi un po' più negli Stati Uniti che in Italia devo dire quello che trendwatching chiama the awakening anche questo credo un neologismo è una sorpiatura di awakening chi sono i walkfluencer quelli che trendwatching chiama the walkfluencer trendwatching ci dice questo ve lo leggo proprio testualmente che in un social media landscape che è saturato dai fake followers dai like comprati eccetera sta emergendo un nuovo tipo di influencer un influencer a cui non gliene frega niente dei like di essere visto gli frega di qualcosa di molto più importante questi personaggi sono personaggi che vogliono cambiare il mondo che sembra una cosa strana dici aspetta tu brand addirittura vai a usare questo tipo di personaggi qua ecco perché vi citavo Saviano prima sono personaggi che non sono sul web per raccontare se stessi ma sono sul web per raccontare un loro obiettivo una loro battaglia un loro valore ok alcuni brand stanno cominciando ad utilizzarli come Barbie Mattel in questo caso che ha preso questa ragazza che vedete qua di fianco che si chiama Bindi Irwin in Australia lei è una talent televisiva un influencer è un personaggio molto famoso sui social ma è anche una appassionata di natura è una ragazzina di 17 anni che combatte per il mondo perché il mondo venga conservato per la sostenibilità ambientale e Barbie ha pensato bene in occasione del Women's International Day di prenderla come testimonial di fare addirittura una Barbie col suo volto quindi anche grossi brand stanno cominciando a usare questi personaggi che voi vedete che sono i figli naturali di Malala quindi questi che appunto in America vengono chiamati walkfluencers noi cerchiamo di portarveli e di raccontarveli anche perché nel 2018 e nel 2019 l'utilizzo di questi personaggi potrebbe essere molto importante per un motivo e anche qua cito trainwatching non sono parole mie anche in questo caso sono molto importanti perché perché ci dice trainwatching io so e voi dovreste sapere speriamo che i nostri consumatori i vostri consumatori si aspettano da voi che voi andiate oltre il semplice profitto che voi in qualche modo ci aiutiate a rappresentare i nostri valori e uno scopo di tal profitto quindi un modo molto potente per fare questo è di usare questo tipo di personaggi e di dare le vostre piattaforme a questi personaggi perché loro possono divulgare il loro messaggio questa è una tendenza che noi vediamo utile anche per i nostri band italiani speriamo che in 2018 e 2019 li vogliono usare e vi ringrazio per la vostra attenzione grazie grazie grazie